Ho soccorso più di un'anima, cerchio che sed attraverso orietta a cura di VB, entità. Oggi affronterò un argomento già trattato, l'eutanasia, ma lo farò con un approccio completamente diverso rispetto alla volta scorsa. Purtroppo quello che vi dirò oggi su questo argomento è sconvolgente e mi ha toccato molto da vicino, avendo io in prima persona soccorso più di un'anima coinvolta in tanto dolore. Quella che sto per raccontare è la storia di un'entità la quale per ben due volte è stato negato il diritto alla vita. Le è stato impossibile due volte di portare a termine il suo karma e il karma dei suoi genitori ancora incarnati. La racconto perché vi rendiate conto ancora una volta di quante entità coinvolge la libera scelta di un singolo individuo. Parto raccontandovi questa storia dal principio per meglio farvi entrare nell'ottica della disperata richiesta d'aiuto cui sono accorso. Arlette, nome fittizio, si incarna circa tre anni fa del vostro tempo, seguendo lo schema karmico predefinito, insieme alle persone che girano intorno a questa nascita. Essa dovrà essere una bambina down al terzo grado, uno dei più gravi. Ma al quinto mese di gravidanza i genitori scoprono il tipo di malattia che affligge la bambina e decidono per un aborto terapeutico, tutto questo in totale libera scelta. Vi rendete conto anche voi di come questa scelta incida notevolmente sul karma di molti spiriti. Quello di Arlette principalmente, che pur non avendo commesso omissione, non avrà l'opportunità di scontare la parte di bagaglio karmico che si era prefissata e quello dei genitori, che si ritroveranno con un notevole appesantimento del proprio e quello delle persone a loro più care, come il fratellino di Arlette, i nonni e i due zii, che non avrebbero scontato alcun bagaglio karmico, ma avrebbero dovuto beneficiare di quella esperienza di vita. Trovatasi in una situazione di rifiuto, l'entità Arlette ha due possibilità, o scegliere di incarnarsi, sempre come bambina Dawn in un'altra famiglia, seguendo tutta la prassi che eviterò di raccontare, oppure in un ulteriore gesto d'amore verso le anime che sarebbero dovuti essere i suoi genitori e di tutte le anime coinvolte, tornare in quella famiglia, ma aggravando ulteriormente il suo stato. Tutti gli spiriti coinvolti decidono di riprovarci nella speranza di riuscire almeno a ribilanciare il bagaglio karmico dei due inconsapevoli genitori. Arlette si reincarnerà pertanto in un corpo ancora più malato del precedente, di una malattia tanto grave quanto difficile da diagnosticare prima della nascita. Arlette nasce in un paese ed è proprio qui che inizia il più brutto dei drammi. Attirato da strazianti vibrazioni che sembrano gridare aiuto all'unisono, mi reco in compagnia di un altro dissuasore di spiriti incarnati sul luogo da cui provengono tali inenarrabili vibrazioni. Ci troviamo in una sterile stanzetta di ospedale, da dove proviene la richiesta di aiuto più accorata, è l'anima di Arlette, che si dibatte in tutta la sua forza, anche se a vedere quell'esserino di soli tre mesi, immobile nel lettino con le sbarre, non si direbbe proprio. Quello che mi accingo a raccontare è la più assoluta verità. Appena fuori dalla stanzetta di Arlette regnava agli occhi umani il più assoluto silenzio e si potevano vedere sei persone ripiegate su loro stesse, ognuna assorta in pensieri tutti suoi, i genitori, i nonni e i due zii della piccola Arlette. I nostri occhi e le nostre orecchie però vedevano ed ascoltavano tutt'altro. In quel luogo vi erano sette animi che chiedevano aiuto affinché qualcuno riuscisse a dissuadere i genitori della piccola Arlette dal proposito di praticare l'eutanasia su quella figlia così malata, così sofferente, così straziante agli occhi di ogni persona sulla terra, ma che continuava a ripetere voglio vivere. Questa è stata la più difficile delle missioni da me svolte sinora e non sono poche. Abbiamo fatto tutto il possibile per svolgere al meglio la nostra missione come dissuasori di spiriti incontri, incarnati, anche presso i medici incaricati, di praticare la dolce morte che di dolce non saprei dire cosa abbia. Ma ci siamo dovuti accontentare di portare l'anima della piccola Arlette oltre la soglia. Vorrei dire di aver accompagnato l'anima di Arlette alla luce, ma così non è. Abbiamo dovuto lasciare quell'anima nel sesto sottopiano del primo piano astrale. Arlette non vuole accettare che qualcuno abbia deciso che non doveva vivere e quindi per il momento dovrà restare in quel sito affidata alle amorevoli cure delle balie. Riflettetevi, prego di riflettere su questa storia. Come si può pensare che un genitore, un medico o chi per loro si arroghino il diritto di decidere chi è degno di vivere o no. Sapessero quelle persone il grave danno che hanno procurato in primo luogo a loro stesse e di conseguenza alle altre anime che erano coinvolte. Sapessero anche solo in minima parte ciò che li aspetta quando prenderanno coscienza del loro insano gesto. Pregate per quei genitori che non sono riusciti a rendersi conto di quanto facevano. Commento. È bene ricordare che ogni entità incarnata o disincarnata, come il caso di questa, che è ancora legata al ciclo delle rinascite, esprime il suo credo al filtro del suo grado di rivoluzione.